Pesaro presenta gli eventi di un'estate da capitale Danni d'allagamento, banche a sostegno di famiglie e imprese Lanterna Azzurra ha condannato l'ottavo membro della banda dello spray Giorno del dono, il tribunale assolve la Gulliver L'ordine dei commercialisti a sostegno dei malati oncologici Ritrovati al nostro telegiornale, oggi è lunedì 22 maggio State guardando Rossini TV sul canale 80 oppure tanti di voi ci stanno guardando sul nostro sito rossinitv.it O in diretta sulla nostra pagina Facebook Apriamo questa edizione con la marcia d'avvicinamento a Pesaro, capitale della cultura Oggi sono stati infatti presentati gli eventi estivi del comune di Pesaro Che faranno da ponte verso la grande vetrina del 2024 L'estate 2023 rappresenta per Pesaro la prova generale in vista di Capitale Italiana 2024 Sono numerosi gli appuntamenti in programma raggruppati in un unico Deblian per guidare i cittadini pesaresi in una stagione ricca di eventi tra arte, cultura, natura e musica È una programmazione della vera e propria area metropolitana Normalmente ma anche da Capitale della cultura in divenire Vogliamo dare la sensazione e la realtà, la percezione di una città Che è già pronta a essere Capitale Italiana della cultura 2024 E soprattutto lo facciamo consolidando delle strategie già avviate Per abituare intanto il nostro pubblico, quello pesarese, della provincia e della regione Per poi essere più credibile nell'accogliere il pubblico nazionale e internazionale della Capitale 24 Una mostra del cinema già annunciata con grandissimi nomi Da Tornatore a Dante Ferretti a Carlo Verdone Lusso Dalla che sarà protagonista di una mostra e evento incredibile Che qui a proposito di Capitale e di area metropolitana Arriva a Pesaro, Europa, Bologna, Roma e Napoli Per dare idea un po' della costellazione, del parterre con cui lavoriamo in questa direzione Ulisse Fest che si conferma su Pesaro ampliando le giornate Quindi passando da 3 a 4 e con anche un'apertura affidata a Vinicio Caposela Con l'apertura con il nuovo album E tanti temi legati al viaggio alla sostenibilità Che sono esattamente quelli che vorremmo raccontare con la Capitale 24 Pop Sofia che ritorna e si consolida in un'edizione che sarà ancora più importante In previsione anche della Capitale 2024 E un Rossino parafestio con anche l'inedito di Edoardo Cristina Che completa quindi insomma il primo giro della sua missione Di restituire tutti i titoli rossiniani Che quindi anche solo per questo sta già avendo un interesse mondiale molto importante Una mezzanotte bianca dei bambini confermata a inizio settembre Perché crediamo che così possa avere anche il respiro maggiore Per diventare un po' anche la seconda vacanza magari di tante famiglie Che anche con la curiosità aumentata dalla Capitale 24 Potranno vedere la nostra città in uno dei momenti probabilmente migliori Appuntamento anche con l'enogastronomia Grazia Cali City Con l'animazione di Caterraduno Con il teatro e con la musica di Mira al Teatro d'Estate E concerti di Xan Italia Ma anche con l'atmosfera magica di candele sotto le stelle Sarà un'estate particolarmente vivace Piena di attrattiva per i turisti Che torneranno nella nostra città in forza Devo dire i primi segnali come Rossini Opera Festival Sono molto incoraggianti anche per quanto riguarda il ritorno Degli ospiti da più lontano Il Giappone sta tornando in maniera importante al Festival Quindi direi la migliore premessa per un'estate veramente capitale E continua a muoversi la grande macchina di aiuti Alle famiglie e alle aziende colpite dagli allagamenti Riviera Banca è fra i primi istituti di credito A stanziare già un primo piano di contributi di sostegno Vediamo In considerazione degli ingenti danni causati dall'alluvione Ai territori dell'Emilia Romagna e Marche Riviera Banca e le altre banche di credito cooperativo Insieme alla capogruppo Banca di credito cooperativo ICREA Hanno stanziato un primo plafond di 300 milioni di euro A sostegno dei territori profondamente colpiti dal maltempo Il plafond è destinato sia alle famiglie che alle imprese Che in questi giorni stanno subendo forti danni A causa di una calamità naturale senza precedenti Riviera Banca si sta attivando per facilitare L'accesso a tutte le misure nazionali e regionali Messe in campo a favore delle popolazioni colpite A cui si aggiungeranno interventi personalizzati Una volta quantificati i danni subiti Riviera Banca esprime vicinanza alle famiglie E alle aziende colpite dall'alluvione Assumendo la responsabilità del ruolo di banca Di riferimento delle comunità locali e del territorio A livello nazionale FederCasse sta attivando In collaborazione con le federazioni locali interessate Una raccolta di fondi da destinare iniziative di solidarietà A favore delle popolazioni colpite dall'alluvione Riviera Banca fedele al proprio ruolo di banca e di comunità E in linea con i valori di solidarietà e mutualità Che da sempre ispirano le nostre azioni Vuole essere vicino al tessuto socio-economico del nostro territorio Soprattutto in un momento di difficoltà come quello attuale Insieme a istituzioni, imprese e famiglie Supereremo anche questa emergenza Ed ora due notizie che arrivano dai tribunali La prima arriva da quello di Ancona E riguarda la strage del 2018 nella lanterna azzurra di Corinaldo Oggi è stato infatti condannato ad una pena di 10 anni e 5 mesi Il 24enne bolognese Riccardo Marchi Considerato l'ottavo componente della banda Che utilizzava spray urticante Per rubare gioielli all'interno della discoteca Un gesto criminale che nella notte fra il 7 e l'8 dicembre 2018 Provocò una calca in cui morirono 6 persone Delle province di Ancona e Pesaro Urbino Ovvero 5 minorenni e una donna di 39 anni Ed ora una notizia importante per il mondo del volontariato Che invece arriva dal tribunale di Pesaro Questa mattina è stata assolta la Onlus Gulliver Dall'accusa di presunte irregolarità Nella raccolta di beneficenza di indumenti usati Il tribunale di Pesaro ha accolto questa mattina L'istanza presentata un anno fa dalla Onlus Gulliver Che oggi ha ottenuto l'assoluzione Dall'accusa di presunta raccolta di rifiuti non autorizzata Relativa alla giornata del dono del 2020 Il presidente della Onlus Gulliver Andrea Boccanera È stato assolto per insussistenza di responsabilità nell'accaduto La ditta Nicoletti incaricata sul territorio della raccolta di vestiti usati Si rivolse infatti alla procura della Repubblica Denunciando la Gulliver per il mancato guadagno Conseguente alla suddetta giornata del dono Una giornata che prevedeva la presenza di volontari Impegnati nella raccolta di indumenti usati Da devolvere in beneficenza Indumenti che secondo la ditta Nicoletti Sarebbero altrimenti finiti nei cassonetti ad essa destinati Da qui la richiesta di 15.000 euro di risarcimento danni Di fatto non concessa Il pronunciamento del tribunale in data odierna È ammettere Andrea Boccanera Il beneficio che aveva richiesto E cioè estinguere il reato Mediante il pagamento di una mera sanzione amministrativa Il che ovviamente inibisce ogni Possibilità di risarcimento danni Da parte della parte civile Che si era costituita Ovviamente si tratta di una valutazione Che l'associazione Gulliver ha fatto Per tempo Questa richiesta è stata depositata ormai Credo da un anno e mezzo Per cui il tribunale ha accolto questa richiesta Che si fonda sul presupposto Che non sussistessero conseguenze di nessun genere Per il reato astrettamente commesso Per cui sostanzialmente Ha riconosciuto il tribunale Mediante questa ordinanza emessa in data odierna In favore del Boccanera Che non ci sono conseguenze da reato Che Gulliver opera legittimamente Per il contesto che è emerso in atti Per cui insomma A questo punto Il pagamento della Soma estinguerà il reato E quindi Andrea Boccanera Insomma uscirà incensurato Così come è entrato in questo processo Ne usciamo finalmente a testa alta Ne usciamo limpidi, puliti E ovviamente è una cosa bellissima Questa mattina Sentirsi assolti Sentirsi dire che non hai fatto niente Sentirsi come sei Pulito e limpido Razionalizzando le preziosi spese di volontariato La Gulliver ha deciso dunque per l'oblazione Pagando la sanzione amministrativa Senza dover affrontare i costi superiori Che sarebbero derivati dal processo Ovviamente l'associazione Ha fatto una valutazione di opportunità Che si fonda sul fatto Che i costi del processo Sarebbero stati molto più alti Rispetto a questo costo minimo Per la chiusura del procedimento In fase anticipata Si tratta di soggetti che operano Scrupolosamente Sapendo che il patrimonio che gestiscono È un patrimonio che è finalizzato A tutelare gli interessi Di soggetti deboli E quindi per questo Hanno fatto una valutazione Che ovviamente il giudice Doveva validare come ha validato Su presupposti di insussistenza Di profili di responsabilità residui Di nessun genere Che però si fondava Su questa valutazione preliminare Di non sperperare soldi per l'associazione E di non affrontare nessun tipo di rischio Bocca Nera e la Gulliver Potranno dunque continuare Senza intralcio Le loro opere caritatevoli Per una vittoria sintomatica Per un intero mondo del volontariato Questo è un attacco Diciamo anche nazionale Perché altri amici Altre associazioni di nord Italia Anche del centro Sono attaccati Da chi mette in dubbio L'onestà E la limpezza Della loro attività Quindi questo oggi È un ribadire Che ripeto Ne usciamo puliti Il gruppo ne esce pulito Il mondo del volontariato Ne esce pulito E a testa alta Mattinata di sopralluoghi Al cimitero di Novilara Per i tecnici del comune di Pesaro Il presidente di Aspes Luca Pieri Dopo il crollo Del muro perimetrale Causato dal maltempo Delle scorse ore La parete È stata messa in sicurezza Da Aspes Comune di Pesaro Attraverso un telo Antipolvere Transenne E apposita segnaletica Entro la settimana Inizieranno gli interventi Di rifacimento E dureranno circa Dieci giorni La famiglia Del Lions Club Pesaro Della Rovere Accoglie due nuovi soci Si tratta dell'imprenditrice Paola Stefanelli E del dirigente Veterinario Andrea Massi Nuovi soci Annunciati il 17 maggio Nel corso della conviviale Il ristorante Il Castiglione In cui ha avuto luogo Anche la conclusione Del service L'ora dell'altro Ideato dal socio Domenico Colapinto Coordinato dal socio Federico Buscarini E derogato Dalla presidentessa Chiara Cacciaguerra E dagli avvocati Gerardo Saragoni Lunghi E Joachim Curi Impegnati Con le classi seconde Dell'istituto comprensivo Don Gaudiano Sabato scorso A Palazzo Montani Antaldi Circa 200 persone Hanno assistito Alla quarta edizione Del festival Della comunicazione La rassegna Curata da Mauro Rossi Ha portato Ad indagare Il tema Dell'intelligenza Artificiale Le sue possibili conseguenze In ambito sociale E lavorativo Una preziosa occasione Di confronto Per gli studenti Del liceo Mengaroni E dell'istituto Cecchi Che hanno potuto Interfacciarsi Con le relazioni Di docenti universitari Di diritto costituzionale Ed etica Della comunicazione Dell'Ateneo Di Urbino Ed ora Cambiamo argomento Sarà la cantante Cristina D'Avena La madrina D'eccezione Della seconda edizione Di Boomerang Rewind Festival Che si terrà All'Ido di Fano Dal 16 Al 18 Giugno In attesa Del programma Dettagliato Dell'evento Dedicato A mode E stili Dei favolosi Anni 80 E 90 Il festival Svela Che avrà come ospite D'apertura Un'icona Di quel periodo Il 16 giugno Il concerto Di Cristina D'Avena Taglierà il nastro Al festival Con i brani Che l'hanno resa celebre E sabato scorso Il Soroptimist Club Di Pesaro Ha celebrato Il 20 maggio La giornata mondiale Delle api Alla presenza Di agricoltori Che hanno lanciato Un appello Per la sopravvivenza Delle preziosi Impolinatrici Nel centro ricerche Floristiche Marche Sono state inaugurate Due nuove arnie naturali Che favoriranno Il comportamento naturale Delle api Che nidificano In spazi cavi E permettono Di limitare L'uso Di prodotti chimici Per mantenerle In salute Determinando Un miele Maggiormente puro Si è svolta A Fano L'assemblea annuale Dell'ordine Dei commercialisti Ed esperti Contabili Di Pesaro E Urbino Nell'occasione È stato ribadito Il legame Della categoria Col mondo universitario Ed è stata organizzata Anche una cena Di beneficenza Sostegno Dell'assistenza Domiciliare Ai malati Oncologici Vediamo Non solo numeri E conteggi Ma anche Tanto cuore La fondazione Dei commercialisti Ed esperti Contabili Di Pesaro Urbino Ha infatti Organizzato Una cena Di beneficenza A favore Della Onlus Adamo Da quasi 20 anni Impegnata Nell'assistenza Domiciliare Ai malati Oncologici Venerdì scorso La raccolta Fondi A Fano Nella splendida Cornice Di Villa Rinalducci Una nuova iniziativa Di solidarietà Che si aggiunge A quelle Per l'emergenza Covid E per i terremotati Del 2016 I commercialisti Non sono solo Esperti di numeri Ma hanno Anche un'anima Una vicinanza Alla gente Alle persone E attraverso La fondazione Abbiamo organizzato Questa sera In questa Bella località Villa Rinalducci Un evento Per raccogliere Grazie alla generosità Dei nostri colleghi Dei fondi Da destinare All'associazione Adamo Che svolge Ormai Da tanti anni Attività Di assistenza Gratuita Domiciliare Agli ammalati Oncologici Per noi È importantissimo È fondamentale Perché noi Comunque Lavoriamo sul territorio Non siamo un ente Nazionale Siamo un ente Autonomo Ma che comunque Vive di beneficenza E quindi Noi abbiamo Un team medico Infermieristico Che è Regolarmente Retribuito A tabella nazionale La raccolta fondi È difficile Ma è fondamentale È fondamentale Veramente È un continuo Lavoro Lavorio Addirittura Perché noi Comunque abbiamo ripreso Dopo i tre anni di pandemia Due anni e mezzo di pandemia Abbiamo ripreso Con gli eventi Abbiamo ripreso Con le vendite Dei vari manufatti Poi a Natale Pasqua Così Però Comunque È importantissimo E stasera Io ringrazio Veramente tutti Prima della cena Di beneficenza Ha avuto luogo L'assemblea annuale Di approvazione Del bilancio Un importante momento Per fare il punto Certo Ma anche per Rinsaldare il rapporto Tra la categoria E il mondo universitario Oggi abbiamo avuto L'assemblea di approvazione Del bilancio Alla Pinacoteca San Domenico Di Fano Una bellissima cornice Per una bellissima assemblea Come ospiti principali Avevamo Il magnifico rettore Dell'università Gli studi di Urbino Il professor Calcagnini E la preside Della facoltà di economia La professoressa Cesaroni Per creare Così delle condizioni Favorevoli Per i giovani Per L'introduzione Nella nostra professione E per Anche la formazione Dei dottori commercialisti Dei dottori commercialisti Stessi La fondazione Ha lo scopo Di agevolare L'ingresso Alla professione Soprattutto Dei giovani E in questo Abbiamo organizzato Assieme All'università Di Urbino I corsi Di preparazione All'esame di stato Per i giovani E affrontando Anche le spese Necessarie Per poter Svolgere Questo compito Sì è molto importante Per noi Perché Completano Una formazione Che nelle aule È essenzialmente Di natura teorica La possibilità Di avere Scambi Di avere anche Come docenti A contratto Dai commercialisti Ci permette Di fornire Ai nostri studenti Che quella parte Più applicata Che poi Anche quella Che dovranno Svolgere Una volta Entrati sul mercato Del lavoro L'auspicio È inoltre Quello Di una sempre Maggior presenza Ai tavoli Istituzionali Da parte Dei commercialisti Pronti a svolgere Un ruolo Sempre più Di primo piano Chiaramente Noi siamo disponibili Molto interessati Abbiamo già iniziato Un percorso Con la regione Che è un ente Diciamo Con cui ci interfacciamo Adesso già Da diversi mesi Con gli enti pubblici Locali I comuni E la provincia Noi siamo Più che disponibili A interfacciarci Su temi economici E su temi sociali Che riguardano Anche gli ambiti Della nostra professione Ho già detto I numeri In assemblea La nostra professione Siamo 120.000 professionisti 500.000 addetti E contribuiamo Per l'1% del PIL Quindi la nostra importanza Dal punto di vista È sia economica Ma anche dal punto di vista Sociale Nella società Una è una start up Innovativa L'insegna del benessere Della persona L'altra è una società Di sicurezza informatica All'avanguardia Nel prossimo servizio Andiamo a conoscere SM EUformula E FTP Due nuove attività Inaugurate a Pesaro In via Bedosti Ci troviamo in via Bedosti 21 A Pesaro Per l'inaugurazione Di due nuove attività SM EUformula Che è una start up Innovativa Nel campo del wellness E anche FTP Che si occupa Di sicurezza informatica Quindi andiamo a conoscerle SM EUformula Sta per S Di stella E di congiunzione Alla mia socia Marilena Eccola La famosa M EUformula È una parola Che deriva dal greco E vuol dire Far bene E soprattutto In maniera scientifico Come esiste Una medicina Personalizzata Così abbiamo voluto Personalizzare Anche l'approccio Alla cura estetica Quindi in che senso Come esiste un farmaco Mirato al sintomo E alla malattia Ci deveva essere Un approccio Consono E consapevole Proprio all'utente Che si rivolge Ad una cura estetica Nel campo Del ringiovanimento Del dimagrimento Dello stare in forma Quindi proprio Un approccio Ad uno stile di vita Consapevole Che noi definiamo Slow E in questa vita Così movimentata Proprio apta A rispettare Il periodo ormonale Dell'utente E su stato infiammatorio Quindi abbiamo creato Questa tecnologia Con una web app Dove vengono Incanalate Le proprie analisi Del sangue E viene Praticamente Delineato Un funnel Specifico Per le esigenze Del cliente Proprio in base Ai suoi valori Biologici Di riferimento In pandemia Poi sono nate Diciamo Forse Le idee migliori Abbiamo avuto Tanto tempo Per poter Creare Un qualcosa Che lei già Aveva presentato Sul territorio Pesarese Che però Poi insieme Abbiamo Consolidato Abbiamo ampliato Unendo Diciamo I medici Che già collaboravano Con me E quelli Che collaboravano Con lei Stiamo vedendo Le immagini Di ormone Questo macchinario Che è davvero Rivoluzionario Assolutamente Ingegneri Medici Equip Proprio Di professionisti Del mondo Del wellness Hanno collaborato Insieme a me A Marilena E al professor Cirilli Che siamo appunto Noi tre Gli inventori Di questa magica Tecnologia avanzata Nel campo appunto Estetico medicale E siamo riusciti Proprio a Coadiuvare Ecco L'esigenza Del cliente Nell'essere proprio Rispettato Dal punto di vista Estetico Nella sua Rimessa in forma Funzionale Siamo con Patrizia Dastoli E Stefano Talami Titolari Di FTP E allora Andiamo a scoprire Subito Che cosa fa FTP FTP si occupa Di informatica 360 gradi Nasce in Emilia In particolare Nel ambito Della Motor Valley Pesaro È una nuova realtà Che abbiamo fortemente Voluto Perché si tratta Di una realtà Marchigiana Chiaramente In questo ambito Le marche Hanno sicuramente Una grande necessità Di ampliare Tutto l'ambito Di infrastruttura Informatica Ma anche la mentalità Che noi possiamo Tranquillamente Importare Da un settore Nato appunto In una regione Come l'Emilia Noi ci occupiamo Di mettere in sicurezza I dati Quindi sostanzialmente La tematica Della cyber security La sicurezza informatica Tanto oggi È molto Negli atti di cronaca E quindi dal 2005 Da quando siamo nati Abbiamo sempre avuto Come obiettivo Di mettere i dati In protezione Per cui Infrastrutture Informatiche E sicurezza informatica E chiaramente Noi eravamo presenti All'inaugurazione Di queste due Nuove attività Ma per conoscerle Meglio Vi invitiamo a vedere Il nostro speciale televisivo Che trasmetteremo Giovedì 25 maggio Alle ore 21 e 20 Ed ora invece Parliamo di opportunità Di lavoro Quelle proposte Dall'istituto Alberghiero Che comunque Permette il conseguimento Di un diploma Alla fine dei tre anni Partirà a ottobre Quindi dalla durata Da ottobre a giugno Dalle ore 18 Iniziano le lezioni Fino alle 22 circa Dal lunedì al venerdì L'anno precedente L'anno precedente Abbiamo provato anche La modalità E-learning Per due volte A settimana È stata Un successo Soprattutto per garantire Ai lavoratori O alle mamme Di poter partecipare Alle lezioni E quindi vi aspettiamo Il 24 Presso il nostro istituto E concludiamo Con le notizie Di sport Si è definitivamente Conclusa la stagione Della VL Con l'eliminazione Dai playoff Mentre all'Ital Service Manca un ultimo sforzo Per conservare La massima serie Del calcio A 5 Cala il sipario Sulla stagione 2022-2023 Della VL La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Si conceda Fra gli applausi Degli 8.000 tifosi Della Vitrifigo Arena Che hanno visto Una squadra Che ha messo Cuore e abnegazione Ma che alla fine Ha dovuto chinare Il capo Davanti alla forza Superiore Dell'Armani Milano Che ha vinto La partita 80-94 Chiudendo la serie Dei quarti Di finale playoff Sul 3-1 Alla VL Non è riuscito Di replicare Il miracolo Del giovedì Ma resta La soddisfazione Di un anno Che conferma Pesaro Per il secondo anno Fra le migliori Otto Della Serie A Oltre alla conquista Delle semifinali Di Coppa Italia Ora si passa Alle valutazioni Su budget E programmi tecnici In vista futura A cominciare Dalla panchina Di Repesha Che già Nella sua recente Apparizione Ad insieme a Canestro Di Rossini TV Aveva invitato Ad un passo avanti Di programmazione Sia in termini Di continuità Di budget Sia di stabilità Di impianti Di allenamento Dal basket Al calcio 5 Manca ancora L'ultimo atto All'Ital Service Pesaro Per salvare Una stagione Estremamente complicata E distante Anni luce Dalle tre precedenti Infiocchettate D'altrettanti scudetti Sabato Nell'andata Dei play out Tony Dandelle Compagni Si sono portati Avanti nel lavoro Battendo 4 a 3 Il Monastir a Sestu In provincia di Cagliari Una vittoria Arrivata al termine Di una complicatissima Settimana Culminata Con l'esonero Di Fulvio Colini E l'affidamento Della squadra Al vice Davide Barnesi In Sardegna L'Ital Service Parte forte E chiude il primo tempo Avanti 2-1 Grazie ad un autorete E alla firma Di João Miguel Il Monastir Si dimostra avversario Tenace Ma Pesaro c'è E vince grazie Alla terza e quarta firma Di Murillo Schiochè E di Oliveira Sabato Nell'ultimo atto Pesaro Basterà anche un pareggio Per mantenere la categoria In caso di vittoria Dei Sardi Con un gol di scarto La salvezza Si deciderà I supplementari Nel calcio Finisce con un'enorme Soddisfazione La stagione Dell'Alma Juventus Fano Che da quarta in classifica Vince la finale playoff In casa della rivelazione Vigor Senigallia Seconda forza Del torneo Al Bianchelli Decide una magia Di Nappello Per lo 0-1 Dopo un paio di minuti Che però Come dal regolamento Di Serie D Non sarà sufficiente A garantire La promozione in C Eccoci arrivati Alla fine del nostro Telegiornale Ma come tutti i lunedì Vi consigliamo di restare Collegati sul canale 80 Perché in prima serata Alle 21.20 C'è il nostro Approfondimento Medico In collaborazione Con Fisiorati Medical Center C'è capo Obiettivo Salute Questa sera Alle 21.20 Si parlerà Dell'intestino Irritabile E lo faremo Con la dottoressa Maria Eugenia Minardi Vi ricordiamo poi Che subito dopo Cambiamo completamente Argomento E vi mostriamo I racconti Della generazione Z Nel nostro Spazio Z Siamo alle ultime puntate Di questa stagione La nostra Letizia Questa sera Andrà ad incontrare I ragazzi Della Villa San Martino Calcio E come sempre domani Vi aspetto puntuali Alle 7.20 Con la nostra diretta Per la lettura Dei titoli Dei quotidiani locali Con Buongiorno Rossini Grazie per averci seguito Un saluto A tutti coloro Che ci stanno guardando Anche dalla nostra applicazione E quello che vi ricordiamo Sempre di scaricare Gratuitamente La nostra applicazione Per avere Rossini TV Sempre con voi Grazie mille Buona serata